Heng Su è morto. Xiao non sarà certo contento. La Cina diventerà furiosa. I tuoi uomini farebbero meglio... Fate venire immediatamente la squadra difensiva d'emergenza. Tu stai bene? Non preoccuparti di me. Ferma Logan. Hai il vaccino di Xing. Non puoi permettere che riesca a fuggire. Lo fermeremo. Chiudo. Idiota! Sì, stai facendo davvero un ottimo lavoro. Ho capito. Bene. Ok, prendi l'unità 1 e andatela fuori. Voglio quegli elicotteri. Sì, signore. Apri subito questa porta! Hanno dei completi antiproiettili. Non posso colpirlo. Dannazione! 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 Teresa, ho raggiunto un piccolo cieco. Devo tornare indietro. Ho bisogno che mi trovi un'altra via di uscita. Non posso, Gabe. È l'unica via libera. Dovrebbe esserci un altro condotto sotto di te. Puoi raggiungerlo? C'è un solo modo per scoprire. Grazie a tutti. Amiret. Dannazione, Chance. Dove diavolo sei? 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 Ci sono alcuni ascensioni ma l'energia è stata disattivata. Dovresti essere in grado di aprire le porte manualmente. Io non posso fare di più. Dovrei uscirne nella maniera più rischiosa. me la caverò voglio questo posto blindato non fate uscire Logan da qui per nessun motivo se Lian assume il vaccino il suo plasma sarà inutile per noi si lo so bene unità 1 dove siete? stiamo controllando i tetti a sud del complesso dei laboratori Logan è fuggito trovate subito quell'elicottero ci pensiamo noi sto arrivando fermerò Logan anche se dovesse farlo con le mie mani